L'avvertenza Cotto Pratigliolmi arriva in prefettura, un'azienda che produce prodotti di nicchia, che è stata riconosciuta anche a livello regionale per la produzione di cotto che va in crisi con una cassa integrazione firmata fino al febbraio 2020 ed una proprietà che chiede i licenziamenti. A questo punto, dicono i sindacati ed il sindaco di Castelfranco Pian Disco, che ha accompagnato i lavoratori in prefettura, vogliamo un chiarimento dalla proprietà. L'incertezza delle persone, l'incertezza delle famiglie e soprattutto la ripercussione che ha nel territorio una presa di posizione dell'azienda, che è una presa di posizione anche impropria perché con la cassa integrazione straordinaria non si licenzia, è sicuramente un fatto paradossale. Di questo chiediamo anche noi spiegazione e motivazioni. L'azienda comunque che ad oggi fattura 4 milioni di fatturato, nonostante abbia avuto un periodo di fermo di due o tre mesi di cassa integrazione per manutenzione e quindi è rimasta ferma. Quindi un'azienda che comunque è un'azienda produttiva e che noi chiediamo che non porti libri chiaramente in tribunale ma che continui a lavorare. C'è bisogno di agire, c'è bisogno di agire a tutti i livelli, per questo oggi siamo qui, abbiamo chiesto l'intervento anche delle istituzioni attraverso il prefetto che rappresenta lo Stato sul territorio, per interessare tutte le istituzioni a tutti i livelli, da quelle locali a quelle regionali a quelle statali, anche per verificare le procedure che a nostro avviso come quella del licenziamento sono state illegittime al momento, quindi chiederemo la revoca di queste procedure e poi trovare delle soluzioni per poter scongiurare questa crisi.